Un saluto e ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsionale. Una giornata di martedì che vedrà l'anticiclone a latitudini più settentrionali, quindi tra Inghilterra, Scandinavia, Germania e correnti più umide atlantiche a investire un po' tutte le nostre regioni, in particolar modo nord-est e parte adriatica, con qualche breve acquazzone temporale. Ecco più nel dettaglio la mappa delle precipitazioni che ci mostra in giornata qualche breve piovasco non solo al nord-est, arco alpino, ma anche gran parte della dorsale appenninica, locale sconfinamento ad alcune coste del centro-sud Italia. Ecco la mappa invece della nuvolosità che ci fa vedere appunto una giornata più variabile soprattutto al nord-est e regioni adriatiche, ampie schierite invece sulle due isole maggiori, tutti i settori, tirrenici. Infine la mappa dell'Italia, appunto una giornata che sarà nel complesso buona al nord-ovest, qui temperature in aumento anche fino a 20-23 gradi, bel tempo prevalente anche sulle due isole maggiori, qualche acquazzone invece all'estremo nord-est, ma soprattutto dorsale appenninica in locale sconfinamento a coste adriatiche ed alcuni settori del basso Tirreno. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti come sempre scaricando l'app di trebimeteo.com.